Qui sono dentro, sono dentro al quartiere sportivo. Allora, c'è una marina di ristoranti e pizzerie. No, praticamente c'è una roba sportiva. Ecco, lì c'è una bocciofila per gli anziani, tutti i tifosi del Resulù. Qui c'è una piscina scoperta. Più avanti ce n'è una scoperta. Allora, piscina scoperta Olimpione. Cioè nel senso, ti registrano ieri. Lì ci sono le medietterie. Centro sportivo l'ultimo. Antistadio, niente. Invece di usare lo stadio per i bambini, gli allenamenti usano l'antistadio così non gli rovinano l'erba. Invece di usare lo stadio.